Hey piccoli Steve, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi voglio mostrare il calendario che ho deciso di creare per organizzare al meglio il nostro canale. Il calendario è leggermente diverso da altri presenti su YouTube, ma alla fine non è nulla di complicato. Come potete vedere il calendario è organizzato in due tipi di settimane, questo perché i video sono diversi fra loro. Ogni settimana verranno pubblicati 4 video, di cui 3 sono dedicati a Minecraft, mentre un quarto è dedicato ad altro. Quest'ultimo per me è un video facoltativo, mentre per voi è un video bonus, quindi ci può essere come non ci può essere. I giorni in cui verranno pubblicati i video sono lunedì, mercoledì, venerdì, sabato o domenica. Ogni lunedì, indipendentemente dalla settimana, ci sarà la survival di Minecraft. Ora passiamo alla prima e alla terza settimana del mese. Il mercoledì verrà caricata la serie riguardante le mod, mentre il venerdì verrà caricata la serie riguardante le reso spec. Passiamo alla seconda e alla quarta settimana. Il mercoledì ci sarà la serie riguardante i meccanismi e i bug di Minecraft, invece il venerdì verrà pubblicata la serie sulle custom map. Il sabato e la domenica sono i giorni in cui, se sarà possibile, verranno caricati video riguardanti o Minecraft o altri giochi. Bene, questo è il modo con cui voglio organizzare il canale. Come potete vedere, sia la quantità di video che la frequenza portano un grande impegno da parte mia. Per questo voglio chiarire già da adesso che all'inizio non penso di riuscire ad essere puntuale con i video, perché al di fuori di YouTube c'è anche una propria vita che deve essere mandata avanti più di ogni altra cosa. Dopo questa perla di saggezza, vi voglio porre una sola domanda inerente al calendario. Mi dovete scrivere nei commenti sotto a questo video l'ora o la fascia oraria nella quale siete più disposti a vedere i video. Io sono disposto a pubblicare i video dalle 16 alle 19, perciò scrivete nei commenti l'ora a voi più disponibile. Grazie per aver visto il video, io vi auguro un buon game, piccoli stili.